Ricordo di tutto lo stesso, Cioè, E' importante Cioè, tipo, Il giallocino Il giallocino E' un materiale che, se te lo do io, Tu per trovarlo uguale Devi venire a prenderlo Della cava, dove te lo porto io Perché se tu fai un materiale C'è un diverso C'è un diverso